Buongiorno a tutti, sono Marta del portale Terzo Settore in Cloud, Sportivin Cloud, quindi esperta di prodotto del mondo del Terzo Settore. Oggi vi presenterò le funzionalità che sono state passate dalla vecchia versione alla nuova versione, conoscevamo i software dedicati al mondo appunto del Terzo Settore, Atena Portal, Onlus Portal, Sipario Portal, in contabilità semplificata ordinaria. In questo appuntamento visualizzeremo e ci focalizzeremo sul software in contabilità ordinaria e quindi il passaggio dalla versione appunto precedentemente citata, ad esempio Atena Portal o Onlus Portal, a Terzo Settore in Cloud e Sportivin Cloud. Colgo l'occasione per condividere lo schermo e accedere all'ambiente demo derivante proprio da questa contabilità ordinaria di Terzo Settore in Cloud. Questa è l'interfaccia grafica del nuovo software che ci consente di disporre appunto in una sezione centrale nella home di funzionalità molto specifiche. Sicuramente la dashboard è stata aggiornata e ci dà la possibilità di visualizzare tramite questi widget di base l'andamento ad esempio delle nostre quote piuttosto che altre informazioni dettagliate che vogliamo monitorare e tenere sotto controllo. Inoltre con il passaggio alla nuova versione si sono aperte delle funzionalità e delle prospettive di crescita ulteriori come ad esempio una gestione più agevole degli incassi tramite appunto sistemi di pagamento online. Infatti è nata la possibilità di gestire in maniera molto semplice ed agevole il pagamento tramite la modalità tspay direttamente del nostro gruppo team system. La nuova versione è appunto come dicevo in precedenza semplice e intuitiva. I menu sono stati posizionati in questa barra laterale sinistra dove cliccandoci al di sopra esplode appunto questo menu e le relative funzioni le possiamo monitorare scorrendo appunto il mouse verso il basso. Nella precedente versione quindi qui apro la vecchia versione eccola qui trovate in questo caso Atena Portal ma la logica rimane la stessa per Onlus Portal troviamo appunto i menu invece in una sezione orizzontale. Quindi già questa prima differenza visiva ci aiuta appunto a comprendere come riusciamo a nella nuova versione ad avere più visione della maschera di registrazione avendo i menu laterali. Inoltre sono state aggiunte differenti funzioni rispetto alla versione precedente e sono state anche riposizionate in maniera specifica le funzioni appunto di cui parleremo oggi. Ad esempio sono state posizionate delle funzionalità dedicate a un tipo compenso e vi mostro la vecchia versione per semplicità appunto di spiegazione. Per quanto riguarda appunto il tipo compenso eccolo qui un piccolo esempio precedentemente era posizionato nel menu società nei parametri. Ora questa funzione come tante altre è stata riposizionata correttamente e quindi comparirà nel menu dedicato alla gestione dei compensi. Ecco che nel momento in cui io accedo al menu dedicato trovo una sezione di parametrizzazione che appunto riscontra questo tipo compenso di tenute. Quindi già questo è un primo esempio che ci mostra come le funzionalità sono state riposizionate. Riaccedo alla vecchia versione quindi correggetemi scusatemi se parlo di vecchia e nuova versione ma per praticità e semplicità di appunto spiegazione vi dirò vecchia e nuova versione. La logica contabile ovviamente rimane la stessa quindi su quel punto di vista non ci sono assolutamente cambiamenti per quanto riguarda la contabilità ordinaria che segue un principio di competenza la logica permane quindi abbiamo una classica gestione di prima nota con conti economici finanziari patrimoniali crediti debiti fino ad arrivare all'elaborazione di un bilancio d'esercizio. Quello che cambia a livello invece di diversione si riscontra principalmente su una visione grafica che è più semplice e intuitiva e su alcune funzionalità invece introdotte in maniera molto specifica e appunto visualizzeremo fra pochissimo nel corso di questo nostro incontro. Partiamo subito dal visualizzare i vari menu e comprendere quelle che sono le varie peculiarità. Innanzitutto nel menu società la logica di creazione dell'esercizio della stagione rimane quindi anche in questo caso andremo a creare un esercizio specifico e una regione specifica e questo ci aiuta proprio a rendicontare in maniera separata la nostra attività istituzionale piuttosto che la gestione contabile. Quindi tutte queste funzioni rimangono nel nuovo ambiente. Quello che cambia a livello di gestione appunto della parte principale dei consigli ecco qui è che nella nuova versione è stata introdotta una funzionalità e quindi passo la nuova versione per mostrarvi come nel menu società ecco qui è stata introdotta una nuova versione di gestione delle riunioni. Quindi oltre a poter creare i consigli e inserire la partecipazione quindi i membri del consiglio effettivo direttivo posso andare a creare delle specifiche riunioni riunioni del mio consiglio direttivo piuttosto che di assemblee quindi riunioni esterne anche questa è una funzionalità aggiuntiva. Inoltre nel menu società è stata creata un'ulteriore categorizzazione per le configurazioni e le parametrizzazioni di base. Se in precedenza avevamo un unico grande sottogruppo parametri ora abbiamo la parte dedicata alle tabelle quindi la parte principale di configurazione contabile e successivamente una seconda parte di parametri dove interveniamo e possiamo appunto personalizzare in autonomia le nostre funzioni principali. In questo menu società viene data appunto la possibilità per quanto riguarda gli enti del terzo settore che fanno parte del registro unico di elaborare il riclassificato del terzo settore secondo lo schema previsto e con le codifiche pubblicate dal registro unico. Quindi un'ulteriore funzionalità che prima non era presente. Inoltre per chi gestisce per centri di costo si ha la possibilità di creare in maniera più agevole visualizzare un elenco completo dei nostri centri di costo, richiamarli nel movimento contabile per arrivare ad un'elaborazione finale di rendiconto economico per centri di costo. quello che è stato aggiornato è semplicemente appunto a livello di tabelle e parametri nel menu società ma le causali rimangono sempre le stesse quindi abbiamo un elenco di tutte le principali maschere di registrazione che possiamo aggiornare. Questo che cosa significa? Significa che se io accedo ad un registrazione contabile ad esempio di liberalità in questa maschera ho la possibilità di parametrizzare la stampa della ricevuta che può essere elaborata al termine della registrazione contabile di questa tipologia di movimento. Quindi ad esempio il parametro stampa, eccolo qui, piuttosto che l'inserimento nei parametri immagini della firma che verrà caricata proprio nella ricevuta. Inoltre posso personalizzare il testo della mail che verrà inviata al termine della registrazione contabile su vostra necessità. Questa parametrizzazione è resa più agevole e in maniera autonoma per voi. Un'altra funzionalità particolare che non era appunto prevista in precedenza è la possibilità di categorizzare i tipi compensi e riunioni. Quindi quelli che abbiamo visto in precedenza possono essere, quindi il consiglio direttivo, collegio dei sindaci, riunioni particolari, possono essere proprio create in autonomia e personalizzate. Per quanto riguarda, e qui rientro nel vecchio ambiente, ecco qui riapro il menu società proprio per concludere dicendo che già la veste grafica ci fa capire come nei parametri erano state integrate tutte delle funzioni anche senza un ragionamento logico, mentre nel nuovo ho proprio una sezione dedicata. Passiamo al menu delle anagrafiche. In questo caso la logica rimane la stessa, quindi ho un archivio delle anagrafiche, soci, quindi soci partecipanti, volontari, collaboratori, tutti coloro che non hanno la partita IVA e quindi sono persone fisiche, tutte le aziende, enti, associazioni e quindi tutte le nostre persone giuridiche e poi disponiamo di queste funzioni beni e strumenti e prodotti e servizi. Nella nuova versione il menu delle anagrafiche non comprende queste due funzioni perché sono state integrate nel menu società e quindi ripasso velocemente alla nuova versione, ecco qui nel menu società come scorrendo verso il basso troviamo proprio la sezione dedicata ai prodotti e servizi e ai beni e strumenti. Per facilità di ragionamento sono delle parametrizzazioni di base, non rientrano nelle codifiche dell'anagrafica, quindi è stato scelto proprio di inserirle nel primo menu di configurazione base. I prodotti e servizi e i beni e strumenti permangono nella loro logica, quindi il prodotto e servizio ricordo è l'elenco di tutte le tipologie di quote, di articoli, di prodotti che noi appunto andiamo ad offrire al nostro parco clienti, ai nostri soci, i partecipanti e passatemi il termine appunto è il listino prodotti, l'offerta diretta ai nostri utenti finali. Questi prodotti e servizi sono codificati e collegati ad un conto del piano dei conti. Ecco qui centro accedo alla scheda del prodotto, noto come il prodotto in questione è collegato al conto specifico di ricavo del piano dei conti e questo ci aiuta a sfruttare al meglio proprio la funzione e il piano dei conti viene snellito perché io vado a gestire in un unico conto più prodotti, più listini differenti. Anche per quanto riguarda i beni e strumenti la logica rimane la stessa quindi io vado a gestire all'interno del bene strumento tutti i miei beni, strumenti musicali anche che voglio dare in dotazione alla specifica mia anagrafica. I prodotti e servizi scusate vengono richiamati nelle registrazioni di quote e eventualmente di fatture emesse. Nel vecchio ambiente quindi nella vecchia versione riaccedo nel menu delle anagrafiche la parte dedicata appunto ai soci e i partecipanti quindi mi soffermo sulle persone fisiche in primis conteneva delle funzionalità che sono state riportate nel nuovo ambiente, funzionalità dedicate al registro soci, al raggruppamento specifico delle anagrafiche in gruppi, categorie, classi, discipline, tags, tutto questo permane e ovviamente una gestione di test, rivisite mediche, certificate e diplomi. Stessa identica logica per le aziende e enti associazioni. Vi mostro come la maschera proprio della scheda anagrafica, prendo un'anagrafica di esempio, ecco qui, si è cambiata. Questa è la maschera del socio in questione e questa maschera presentava i dati principali all'interno e spostandoci con i menu laterali andavamo ad attivare la sezione dedicata ad esempio i contatti, ai dati legati alla salute piuttosto che ai tutori e altre informazioni. Inoltre nella barra qui in alto trovavamo tutti i vari documenti o i file esportabili. Nel nuovo ambiente la logica qual è? Innanzitutto i menu delle stampe piuttosto che la creazione di nuove anagrafiche in questione o di nuovi movimenti le riscontriamo in alto a destra. Ecco qui come troviamo proprio la creazione di un nuovo, di una nuova anagrafica in questo caso, la stampa, elenco Excel, PDF che rientrano proprio in un unico pulsante stampe. Quindi non sono a livello visivo ma tutte raggruppate. Inoltre sono stati integrati numerosi filtri di ricerca, non solo appunto nella parte delle anagrafiche ma in altre funzioni, in altri menu. Li ritroverete proprio nel corso di questa presentazione e appunto nella vostro ambiente. Accedendo alla scheda anagrafica medesima nel nuovo ambiente vi mostro come è proprio stata modificata. Ecco qui, ad esempio, questa è l'anagrafica di Rossi Mario dove troviamo i dati principali in questa prima parte e tutte le relative tab, tutte le relative informazioni aggiuntive sono posizionate con delle cartelline denominate, quindi dati, dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari e ulteriori dati e funzioni. Ad esempio per chi gestisce le iscrizioni si ritroverà in questa parte dedicata ai corsi e eventi la partecipazione o meno appunto alle varie attività. Piuttosto per chi è volontariato e appunto offre un servizio di volontariato può andare a inserire la tipologia di volontariato, occasionale o non occasionale, impostando le relative date di validità. Ecco che queste prime funzioni, quindi la gestione del volontario ma anche la funzione tipo socio, ci abilitano due registri importanti, il registro soci e il registro volontari. Il registro volontari è una novità rispetto alla vecchia versione e mentre il registro soci era già presente. I registri sono stati posizionati alla fine del menu dedicato alle anagrafiche in questa sezione registro, ci rientreremo fra pochissimo. Colgo l'occasione appunto per dirvi ritornando all'inizio del menu, come se nella vecchia versione era presente una situazione soci lato sinistro, aziende lato destro, qui troviamo i soci, le persone fisiche nella prima parte del menu con le relative funzioni in sottogruppi, quindi la funzione dedicata alle visite mediche, la funzione dedicata alla parametrizzazione dei soci, la configurazione del tesseramento, dei certificati e i diplomi per arrivare poi alla gestione delle aziende, enti e associazioni con la relativa parametrizzazione. Quindi abbiamo inglobato delle funzioni in sottomenu, fino ad arrivare appunto al menu dei registri, dove troviamo registro soci persone fisiche, registro soci persone giuridiche, una novità è registro soci unico e un'altra novità registro volontari. Ecco come il richiamo di un registro è molto semplice e intuitivo. Io vado a ricercare e in questa maschera mi viene riproposto l'elenco dei miei soci con la possibilità di stampa in alto a destra del registro dedicato in PDF e in Excel. La logica permane anche per quanto riguarda il registro volontari, quindi io vado a selezionare anche un filtro di ricerca messo a disposizione oppure direttamente a ricercare ho l'elenco dei volontari con possibilità di stampa in alto a destra. Mentre per quanto riguarda la vecchia versione, questo era inserito all'interno del menu anagrafico e registro soci e io avevo la necessità perlomeno di inserire un filtro di ricerca, un ordinamento stampa per visualizzarmi il mio elenco completo con le relative funzioni posizionate in alto. Per quanto riguarda il menu delle anagrafiche non ci sono grossi cambiamenti come dicevo in precedenza, c'è semplicemente un riposizionamento delle varie funzioni. Passando ad un altro menu, al menu delle iscrizioni, quello che vi posso dire è che la gestione delle iscrizioni online o da segreteria è stata aggiornata in termini di funzionalità, quindi nel corso degli ultimi anni sono state semplificate delle logiche ma anche integrate perché ci sono arrivate dai clienti delle necessità particolari di gestione, ad esempio di camp estivi, quindi con logiche molto differenti che hanno comportato un adattamento in questo senso. Quindi su questo punto la parametrizzazione di base, quindi le configurazioni del modulo delle iscrizioni con i listini, le scadenze a livello logico di base permane, ma ci sono state delle implementazioni di funzioni e quindi su questo punto insomma vi chiedo di contattarci, di riferirci la vostra peculiarità in modo tale che ci caliamo nello specifico esempio. Di norma è stata riportata tutta la gestione delle iscrizioni, eccola qui, iscrizioni e corsi che ci consente proprio di andare a personalizzare al meglio la nostra struttura dedicata. In primis questo menu dei corsi ci consente di andare a strutturare tutti i nostri corsi, eventi e attività e parametrizzarci le varie modalità di partecipazione servizi e opzioni. Poi nel menu delle iscrizioni troviamo una sezione dedicata alle iscrizioni online e una sezione dedicata al controllo e la riportistica eventuale delle iscrizioni. Infine con la gestione delle iscrizioni è nata una funzionalità di segnare presenze. Io posso assegnare la presenza specifica o massiva di un determinato partecipante e in maniera molto ogevole e veloce. Questo non era presente nella precedente versione quindi è una nuova funzionalità prevista. Un'ulteriore funzionalità per quanto riguarda il mondo online e mi riferisco soprattutto agli enti del terzo settore che gestiscono delle raccolte fondi è proprio la funzionalità di donazione online. Questa è proprio una nuova funzione che viene attivata su richiesta del cliente e mi consente appunto di gestire le raccolte fondi e ricevere online delle donazioni. Per quanto riguarda la gestione della quota e quindi mi riferisco a una delle principali registrazioni contabili, qui la logica rimane la stessa a livello contabile, cambia la maschera di registrazione, quello sì. Nel menu appunto delle quote troviamo la prima sezione dedicata alle quote con registrazione della quota, lista quote ed è stata aggiunta a questa situazione quote e troviamo il sottomenu liberalità dove troviamo la possibilità di registrare in passivari e liberalità fino ad arrivare a questo tracciato di comunicazione, erogazione e liberalità. Un nuovo tracciato che può essere sfruttato appunto per inglobare tutte le nostre liberalità in un tracciato txt pronto per essere inviato all'agenzia delle entrate. Accedendo alla vecchia versione, in tal senso, nel menu delle quote appunto io trovavo solamente la lista delle quote piuttosto che la lista altri incassi. La logica della quota era appunto quella, come in altre registrazioni contabili in ordinaria, era quella di richiamare appunto la causale quota di iscrizione e nel corso della registrazione andavo a richiamare l'anagrafica, la causale specifica e l'articolo, il conto effettivo di quota in questione con l'importo, il conto finanziario di incasso quota e potevo andare a registrare. Nella nuova versione la maschera è praticamente la stessa, cambia ovviamente a livello grafico, quindi abbiamo sempre la scelta della nostra causale quota, inseriamo e otteniamo una maschera sempre con la scelta del socio. Qui è stata introdotta una novità, quindi io posso andare a digitare manualmente la mia anagrafica, inserirla nell'esatto momento o modificare quella già presente, oppure ricercare nei tre puntini laterali, selezionando anche un filtro di ricerca, la mia anagrafica dall'elenco completo e caricarla appunto all'interno del movimento contabile. A questo punto io vado a selezionare la tipologia di quota associativa o quota corso, richiamo il prodotto e servizio specifico, quindi ad esempio una quota associativa e richiamo il prodotto quota associativa, vado ad integrare o modificare l'importo, posso anche collegare direttamente dal movimento contabile la tipologia fra istituzionale e commerciale, la specifica del centro di costo se gestisco la mia attività per centro di costo e posso direttamente arrivare alla parte di incasso finanziario con il richiamo del conto finanziario di riferimento e un'eventuale nota interna. Quello che cambia soprattutto è anche la possibilità di richiamare e di aggiungere n righe di conto, cosa che nel vecchio ambiente non era possibile, avevo un limite dedicato. Nel momento in cui io vado a confermare il movimento contabile nel nuovo ambiente, il software mi manda in una maschera riepilogativa dove ho la possibilità in alto a destra di scaricare la ricevuta. Nella sezione proprio di dettaglio visualizzare il movimento in partita doppia e visualizzare anche determinate cartelle se ho abilitate delle funzioni di cui dopo vi parlerò. Posso inviare direttamente la mail con la ricevuta all'indirizzo dell'anagrafica, rientrare in modifica del movimento, duplicare questo movimento oppure crearne uno nuovo. Nel vecchio ambiente appunto questo era molto più macchinoso e quindi non riuscivo proprio a gestire questo in maniera semplice e agevole. Accedo alla lista delle quote per mostrarvi come già un movimento contabile registrato mi portava ad una maschera di epilogativa ma molto più scarna. Avevo sì delle stampe, la ricevuta, l'invio mail, modifica, esci, ma proprio la logica di divisione era differente. Ritornando alla lista delle quote nel vecchio ambiente notiamo come per un'anagrafica io ho una riga di quote effettiva, mentre nel nuovo ambiente io in quote lista quote seleziono almeno un filtro di ricerca visualizzo per anagrafica due righe una dedicata alla parte economica una dedicata alla parte finanziaria e questo ci aiuta proprio ad entrare nello specifico nella specifica parte di movimento e aggiornarlo integrarla. Questa è una visione differente che si avvicina molto di più a una gestione di competenza e quindi di partita doppia. Nella lista delle quote ho differenti stampe, vengono riportate le stesse stampe presenti nel vecchio ambiente, raggruppate in Excel e PDF qui in alto a destra. Inoltre sono stati aggiunti altri filtri di ricerca. Sempre per quanto riguarda le quote io ho la possibilità di elaborare una situazione delle mie quote, cosa che non era possibile nella precedente versione. Per quanto riguarda invece la parte dedicata alle liberalità e agli incassi vari, il movimento contabile rimane lo stesso, quindi non ci sono grosse modifiche a livello proprio di ragionamento contabile. Accediamo all'ambiente al menu compensi. Qui mi soffermo un attimo per dirvi che per quanto riguarda gli enti del terzo settore nel corso di questi ultimi anni non ci sono state delle modifiche impattanti sulla gestione proprio sul calcolo del compenso al collaboratore. Mentre per le organizzazioni sportive, a seguito appunto della riforma del lavoratore sportivo, si ha avuto l'esigenza e la necessità di adattarsi per effettivamente elaborare dei calcoli di contributi, rispecchiare quelle che sono le soglie di contribuzione o di ritenuta. Ecco che nel vecchio ambiente, quindi riaccedo al vecchio ambiente, eccolo qui, il menu era dedicato appunto alla gestione dei compensi, dei professionisti e il rimborso spese ai nostri volontari. Tutte queste funzioni permangono nel nuovo ambiente, quindi abbiamo sempre una gestione dei compensi con la situazione dei collaboratori, la situazione dei nostri professionisti e appunto l'elaborazione di moduli o rimborso spese piuttosto che lettera di incarico, ma cambia proprio a livello sportivo diciamo il calcolo effettivo di compenso e anche la maschera di registrazione sia un po' più amplificata rispetto alla vecchia release, al vecchio ambiente. Infatti il menu dedicato ai compensi si aggruppa come prima a livello di collaboratori, a livello di altro con la documentazione che si può scaricare, a livello di professionisti e a livello di certificazione unica. Infine poi abbiamo la sezione dei parametri che vi anticipavo in precedenza dove all'interno troviamo proprio il tipo compenso e ritenute. Questo è un modello di calcolo che ci aiuta proprio a gestire in autonomia differenti tipologie di calcolo di compenso e ritenute, compensi sportivi, compensi a collaboratori o volontari e quindi possiamo proprio scegliere di personalizzare al meglio il nostro calcolo. All'interno del modello troviamo la possibilità di abilitare ritenute, contributi, inserire percentuali, aggiornare la nostra autocertificazione o la ricevuta a livello di parametrizzazione stampa. Questo modello di registrazione viene poi richiamato effettivamente nel movimento contabile. Accedo alla lista dei compensi per mostrarvi un movimento di esempio. Se accedo ad esempio al mio compenso di prova, notiamo come, questa è la maschera di epilogativa, accedo al movimento effettivamente contabile, notiamo come la maschera mi consente sempre di richiamare il collaboratore. Al livello di righe vado ad aggiungere il conto economico del piano dei conti dedicato al compenso, ecco qui, con il richiamo dell'importo e nella sezione dedicata al pagamento vado ad abilitare o meno effettivamente le mie ritenute, i miei contributi sulla base delle impostazioni che io vado ad inserire nella maschera. Quindi qui ho dei calcoli da effettuare e li faccio tramite che cosa? Tramite un tipo compenso che abbiamo visto prima e tramite questo pulsante calcolo. Ad ogni modo tutte le funzionalità e le informazioni sulla gestione contabile di questa parte dedicata ai compensi le abbiamo approfondite con altri webinar video o istruzioni, quindi se avete la necessità di avere ulteriori informazioni contattateci pure e iscriveteci tramite il sistema di ticketing, interno. A livello di documenti vengono sempre elaborate le autocertificazioni e le ricevute, lettere di incarico fino ad arrivare appunto alla certificazione unica come era nel precedente ambiente. Anche per quanto riguarda i professionisti non cambia nulla, quindi riusciamo a gestire ritenute, contributi piuttosto che altre indicazioni all'interno e su questo mi collego appunto anche alla gestione della fatturazione elettronica. Nel vecchio ambiente, e quindi rientro nel vecchio ambiente, a livello di fatture, di menu fatture, come vedete avevamo solamente la creazione, l'inserimento di nuove fatture emesse con una lista delle fatture. Mentre per chi aveva anche la gestione dell'elettronico, in un menu apposito, questo è un ambiente demo, non trovate il collegamento con la fatturazione elettronica, ma in un menu apposito, qui laterale, in fondo c'era proprio la possibilità di accedere alla gestione della fatturazione elettronica e scaricare le varie fatture, per poi riportarle qui all'interno e gestire dal punto di vista contabile questo movimento. Nel nuovo ambiente, il menu delle fatture si modifica, si amplia, proprio per incontrare al meglio le esigenze del parco clienti, di voi. Ecco che se accedo al nuovo ambiente, vi mostro come nel menu fatture, io ho la possibilità di gestire le fatture emesse e anche la gestione delle fatture ricevute con la parte di configurazione e fatturazione elettronica. Per quanto riguarda le fatture ricevute, quindi ricevute di fornitori normali, ma anche di professionisti, io ho la possibilità, grazie al collegamento con il sistema di interscambio e quindi noi ci agganciamo al fornitore TS Digital, ma per i nostri clienti che si appoggiano ad Aruba, ovviamente riportiamo il collegamento di Aruba nell'ambiente nuovo, nella nuova versione. Grazie appunto a questo collegamento viene data la possibilità con un pulsante scarica in alto a destra di importare tutte le varie fatture e procedere con una contabilizzazione praticamente automatica. Quindi il software legge l'XML, mi riporta i dati in un movimento contabile, in una maschera di registrazione e io con un clic vado a contabilizzare quel movimento contabile. Per quanto invece riguarda le fatture emesse, io vado a registrare il movimento contabile proprio appunto dal menu apposito fatture, come in precedenza, e al termine del movimento contabile, della registrazione del movimento contabile che ora vi mostro, prendo ad esempio questa fattura emessa, ecco qui, questa è la maschera riepilogativa, accedo al movimento effettivo contabile, come vedete anche in questo caso la maschera si amplifica, si aggiorna rispetto alla versione precedente. Oltretutto nel vecchio ambiente, nella vecchia versione passavamo in step operativi per gestire un movimento contabile, mentre qui abbiamo tutto all'interno di una scheda specifica di movimento. Nel nuovo ambiente la fattura ci consiede di chiamare l'anagrafica, il registro, assegnare una modalità di pagamento, inserire la banca e inserire le nostre righe, il corpo della fattura, con l'indicazione effettiva dell'importo, dell'aliquota, eventualmente del richiamo, della tipologia di attività istituzionale e commerciale o il centro di costo. Nel momento in cui io vado a registrare il movimento contabile, nella maschera riepilogativa ho la possibilità di visualizzare differenti funzioni e tab dedicate, quindi la parte di gestione dell'IVA, la parte dedicata alle scadenze effettive delle mie fatture, piuttosto che la gestione del movimento prettamente prima nota. Sempre nella maschera riepilogativa posso scaricare in alto a destra la stampa di cortesia della fattura, piuttosto che inviare la mail con la fattura di cortesia all'indirizzo dell'azienda o scaricare il download XML. Inoltre posso procedere direttamente da qui con l'incasso della mia fattura, oppure rientrare appunto in modifica del movimento o uscire da questa videata. Per quanto riguarda le fatture elettroniche, ecco questo è un ambiente demo, non è collegato appunto come dicevo in precedenza a un sistema di fatturazione elettronica, ma a livello di fatturazione elettronica nella lista delle fatture qui a destra comparirà lo stato delle fatture, quindi stato inviato, scartato, rifiutato e questo ci aiuta sempre di più a comprendere qual è la problematica e accedere all'interno della relativa fattura con la matita laterale per aggiornare questa fattura e magari riprocedere con l'invio. Nel vecchio ambiente la fattura, prendiamo un esempio di fattura o altrimenti proprio la registriamo, vediamo se è già registrata un esempio di fattura, eccola qui. Nella vecchia fattura, diciamo vecchia, nel senso nel vecchio ambiente, riaccedo all'interno del movimento di modifica e come vedete la maschera è proprio differente, io avevo diversi step, la testata, le righe di partita doppia e la conferma effettiva del movimento. In questo caso io proprio potevo aggiornare le righe della partita doppia. Nel nuovo ambiente invece io vado a gestire semplicemente come vi mostravo prima, seguo i vari step, non vado ad integrare movimento di prima nota ma è il software che mi gestisce tutto questo da solo. Per quanto riguarda l'invio del XML e della fattura, qui a livello di pulsanti dedicati comparirà un pulsante di invio XML, quindi ricordo questo è un ambiente demo, non è presente questo pulsante ma verrà proprio riposizionato qui un pulsante di invio XML che vi consente direttamente da qui senza accedere a un nuovo menu di inviare la fattura all'esterno. Per quanto riguarda la gestione contabilità, quindi il menu contabilità, come lo abbiamo strutturato? Lo abbiamo strutturato sempre in sottomenu, quindi una sezione movimenti, una sezione crediti, una sezione debiti, una sezione fiscale e la sezione di rendicontazione finale. Mentre nel vecchio ambiente il menu contabilità ripropone appunto queste sezioni, movimenti, IVA, quindi fiscali invece qui IVA, crediti e debiti, tutti in un'unica sezione e rendicontazione. Quindi permane la stessa logica, cambia solo a livello visivo, ma tutte le varie funzioni principali sono state correttamente importate, quindi qui non ci sono grosse differenze da appunto mostrare e da verificare, semplicemente appunto abbiamo scelto di mantenere tutte queste funzionalità principali. Una nuova logica appunto di movimento, di funzionalità nel fiscale al modulo F24. Questa sì, non era presente nella vecchia versione, invece in questa versione è presente e con questa funzione io posso andare a stampare direttamente il modulo F24, ecco qui, il formato stampa modulo F24, prendendo a riferimento delle ritenute, il versamento dell'IVA o IVA in a conto. Quindi ho queste possibilità di inserimento tributo configurati appunto con una codifica specifica e mi riporta tutto quello che effettivamente io gestisco in contabilità. Per quanto riguarda inoltre il menu dedicato alla contabilità, nella sezione dedicata ai rendiconti, vengono riportate tutte le funzioni di reportistica. Ricordo appunto il riclassificato del terzo settore, non era previsto nella vecchio ambiente, invece qui è presente questo elaborato riclassificato che viene richiesto dal registro unico e quindi io posso andare, grazie a un'attività di matching fra il mio piano dei conti interno e il piano riclassificato, a elaborare un file riclassificato pronto poi per essere esportato e inviato al registro unico di riferimento. Un'altra funzionalità introdotta nel nuovo ambiente è legata alla funzionalità di SMS mail, in questo caso io oltre ad avere la gestione SMS mail libera e mail massiva, ho anche la possibilità di visualizzare i log mail transazionali, cosa che prima non era prevista e posso configurare in autonomia l'SMTP e la gestione dell'indirizzo mail dal quale invio le mail massive. Infatti nella precedente versione questo non era possibile, io potevo semplicemente inviare le mail e visualizzare un log mail solamente massivo. Inoltre una funzionalità che è stata introdotta nel menu utility, quindi passo al menu utility, è stata quella di gestione a livello di utenti, ecco qua, la possibilità di personalizzare il profilo utente. Accedo appunto al nuovo ambiente per mostrarvi questo, nel menu utility, oltre a tutte le varie funzioni previste di chiusura esercizio, chiusura stagione, assegnazioni, gruppi, categorie, classi e tax, ha proprio la possibilità di creare in autonomia la profilazione di uno o più utenti e in ogni profilo addirittura scegliere le funzionalità di questi menu che vengono visualizzate o proprio gestite. Quindi io posso anche inserire la sola visualizzazione a questa funzione all'ambiente di segreteria avanzata in questo caso. Questo profilo utente, una volta creato, può essere assegnato in autonomia al utente che vogliamo attivare nella gestione utenti e quindi qui ho sempre il solito cruscotto dove visualizzo tutti i vari utenti. Infine, per quanto riguarda la gestione delle funzionalità aggiuntive, qui vedete riportato nell'ambiente demo, ad esempio un modulo di gestione dell'analitica che mi consente di andare a gestire al meglio tutti i movimenti in competenza e effettuare un calcolo automatico dei dati e risconti, gestire anche i miei progetti, piuttosto che gestire i cespiti con il calcolo degli ammortamenti e visualizzare proprio un registro cespiti dedicato e questo fa parte, questi due menu fanno parte proprio di una funzionalità, di un modulo aggiuntivo che potrete richiedere se non avete ancora richiesto questa funzionalità. Un altro modulo aggiuntivo è il modulo dell'archiviazione documenti, anche in questo caso era un modulo aggiuntivo presente nel vecchio ambiente, è stato riproposto e c'è sempre la possibilità di creare cartelle tipi documento e archiviare in maniera massiva i documenti legati ad anagrafiche o movimenti contabili. Ovviamente per ulteriori informazioni legate alle funzionalità aggiuntive o ai moduli aggiuntivi contattateci pure al nostro servizio di ticketing e di assistenza e vi daremo corretto riscontro. A questo punto io vi ho mostrato le funzionalità e le modifiche, le peculiarità rispetto al passaggio alla nuova versione, nel vostro caso potrebbe esserci qualche funzionalità in più perché se avete richiesto delle personalizzazioni o avete tarato in maniera specifica qualche registrazione, qualche movimento contabile, ma queste funzionalità di cui vi ho appena parlato sono quelle principali. Grazie mille dell'ascolto, per qualsiasi informazione abbiamo il nostro sistema di ticketing, quindi non esitate a contattarci. Grazie mille!